Una delle domande più frequenti che mi arriva in privato, in direct, è come faccio a capire se la mia idea può funzionare? Allora, premesso che non esiste una formula magica e un po' dobbiamo per forza di cose rischiare, ci sono però alcuni passi, a tre in particolare, che a mio avviso non possono mancare al nostro piano d'azione sperimentale. Prima di addentrarci in quelli che sono i tre passi utili e funzionali per capire se la tua idea può avere potenziale sul mercato, ti ricordo che se stai guardando questa puntata da YouTube puoi iscriverti al canale per non perderti nessuna puntata nuova in uscita. Se invece stai ascoltando questo podcast da Spreaker, Spotify, iTunes o qualunque sia la tua piattaforma podcast preferita, ricordati di lasciarci una recensione quando dovessi decidere che questa puntata ti è stata particolarmente utile, come spero accadrà tra pochissimi minuti. Se invece stai guardando o ascoltando la puntata dal sito beats-academy.it.it slash podcast, ricordati di iscriverti alla newsletter per ricevere non soltanto i nuovi episodi del podcast di Impact Girl, ma anche il Beats Confidential, una chicca piena, strapiena, ricchissima di valore per la crescita della tua attività che però condivido solo ed esclusivamente via email. Torniamo quindi ai nostri tre passi per capire se la tua idea può avere potenziale. La prima cosa che dobbiamo, o meglio, il primo indicatore che ci può far capire se effettivamente questa idea può avere un potenziale economico, è trovare quale problema questa idea può risolvere. Quindi rifletti sulla nicchia in cui sei già operativa, magari offline, oppure in generale sulla nicchia online che hai scelto di esplorare, in cui hai scelto di entrare, come new entry. E pensa a qualcosa, pensa nel senso osserva e guarda per trovare qualcosa che in questa nicchia magari manca o che a te non va particolarmente a genio e che secondo te potrebbe essere fatto meglio o da un'angolazione diversa. Potrebbe non uscire nulla sulle prime, non è una cosa così automatica. È una ricerca che dobbiamo fare nel corso di alcuni giorni. Quello che ti consiglio di fare è darti però un certo tempo, quindi ripetere questo esercizio di osservazione ogni giorno per magari tre o quattro giorni, proprio per non diluire troppo e per non dimenticarti quello che hai osservato prima e poi magari non ti ricordi più quali potevano essere alcuni aspetti a cui avevi già pensato che potevano essere degli aspetti di miglioramento rispetto a quello che vedi esistente nella nicchia. Perché un'idea funzioni? Qualunque idea è cruciale che aiuti a risolvere un problema o a esaudire un desiderio. Spesso sono due facce della stessa medaglia, a volte un prodotto non risolve un problema ma riesce ad esaudire un desiderio. Pensiamo ad esempio, non lo so, ad una borsa di marca, non è che necessariamente risolve un problema però sicuramente esaudisce il desiderio di acquisire agli occhi esterni un certo status sociale. Ma la maggior parte però dei prodotti in ogni caso aiuta a risolvere un problema. Sarebbe meglio se questo problema fosse qualcosa che riusciamo a trovare. Quasi ogni settore ha spazio per nuove idee che comunque possano riuscire ad aggirare una sfida esistente, sia nel caso di prodotti fisici sia nel caso di prodotti digitali. Ad esempio, parlando di prodotti digitali, per Biz Academy, quindi in particolar modo per la membership di Biz Academy ma anche per i corsi singoli come Digital Revolution Kit oppure Copy Workshop, il desiderio di chi arriva è quello di conoscere il digital marketing nel modo più efficiente. Nessuno ha voglia di perdersi in mille corsetti superficiali che sono creati solo in funzione di una vendita successiva e quindi in realtà non ti danno mai il quadro completo, ma nemmeno magari spendere un patrimonio in un corso di formazione specialistica che dura sei mesi e che uno non ha nemmeno tempo di fare o che magari ti renderebbe esperta in una sola cosa senza però capire come quella singola cosa va ad integrarsi con il tutto. No, in qualità di imprenditrici, chi arriva a Biz Academy vuole sapere solo quello che è davvero necessario sapere per far crescere la propria attività sul web, avere tutto in un unico posto con una guida qualificata e soprattutto presente che è pronto a rispondere ad ogni dubbio. Quindi trova il problema che vuoi risolvere e non fermarti fino a quando non l'hai trovato. Lo step numero 2. Osserva che cosa esiste già. In realtà questa è una prosecuzione dello step numero 1. Quindi una volta che hai identificato il problema che vuoi risolvere, prova ad individuare almeno tre prodotti, tre offerte già presenti sul mercato che si avvicinano a quest'idea e prendi nota che cosa ti piace, che cosa non ti piace, che cosa tu pensi potresti fare diversamente, che cosa magari dicono, se ci sono delle pagine con delle recensioni, che cosa dicono queste recensioni, sia quelle positive che quelle negative. Ora, questa fase della ricerca non ha lo scopo di perdersi in inutili confronti che poi sono un po' un automatismo che avviene soprattutto se entri in una nicchia e sei completamente nuova, quindi ti senti anche piccola rispetto a tutto quello che c'è là fuori. No, ferma il criceto che comincia a girare sulla ruota. Stai semplicemente facendo una ricerca di mercato per renderti conto di quello che è già disponibile, per capire che cosa tu puoi offrire di diverso o di aggiuntivo. A quel punto, una volta individuato qual è il tuo problema che puoi risolvere, una volta individuato che cosa c'è già là fuori, per renderti anche conto di quali sono i prezzi di mercato, di quali sono i feedback delle persone che hanno già acquistato qualcosa di simile e che quindi sono inevitabilmente i tuoi potenziali clienti, allora è il momento di agire, ma, e questo è il punto forse più importante di tutti, agire con molta cautela, perché sì, a questo punto si passa all'azione, ma si tratta di un'azione precisa che prende il nome di MPA o MPF, poi ognuno può chiamarlo come vuole. MPA sta per Minimo Prodotto Accettabile, MPF è Minimo Prodotto Fattibile, vogliono dire la stessa identica cosa, ma che cosa significa? Significa, non significa, anzi vediamo che cosa non significa, non significa che andiamo a creare qualcosa che non ha valore, tanto perché la buttiamo lì e vediamo se qualcuno può essere interessato e poi però comunque è una schifezza, no, deve essere qualcosa di valore, ma non necessariamente deve essere perfetto, a parte che perfetto non lo sarà mai nulla, ma in questo caso che cos'è un minimo prodotto accettabile? È quel qualcosa che rappresenta la minima versione accettabile che ti soddisfi in qualità di fornitore di un servizio e che pensi possa quindi soddisfare anche chi lo riceve, quindi una versione non particolarmente articolata, non necessariamente ultra completa, che fornisca però il giusto valore rispetto ovviamente alla promessa che tu fai e che lasci poi chi riceve questa cosa con un sorriso stampato in volto, quindi l'obiettivo è sempre la soddisfazione ultima del cliente, quindi il tuo minimo prodotto accettabile dovrebbe avere abbastanza valore da soddisfare i tuoi primi clienti, ma ha come scopo ultimo quello di consentire loro di darti il feedback necessario, che poi puoi integrare nella prossima versione, che può essere una versione più articolata, più complessa, più costosa. Quindi il tuo prodotto perfetto nasce da queste integrazioni e dei feedback che avrai ricevuto nella versione minima di questo stesso prodotto. Quindi facciamo un esempio concreto perché così non ci perdiamo in inutili parole. Supponiamo che tu voglia lanciare un videocorso di 10 ore su un dato argomento, perché vai a coprire tutto o magari ho visto anche corsi che durano tanti mesi, ok, corsi magari fatti come prima offerta. Ecco, l'ultima cosa che vuoi fare è proporre come prima offerta sul mercato per farti conoscere per la prima volta una cosa enorme, una cosa gigantesca che inevitabilmente andrai a apprezzare con un prezzo particolarmente alto, perché è giusto che sia così, visto che è una cosa super completa, super ricca di informazioni o di valore pratico, ma diventa complicato poi per chi c'è dall'altra parte e ancora non ti conosce, perché magari non hai ancora un brand consolidato, riuscire a affidarsi. Certo, puoi metterci la garanzia, puoi metterci tutto, anzi devi metterci la garanzia e tutto quello che vuoi nel tuo ecosistema. Resta il fatto che sarebbe molto più semplice e meno dispendioso, sia in termini di denaro, sia in termini di energie, di tempo vere e proprie, andare con i piedi di piuma, quindi invece che di piombo e provare a preparare una mini versione di questo corso, lanciare prima quello, capire che cosa effettivamente interessa, se interessa e capire che cosa interessa in particolare e se funziona allora andiamo a completare con la versione più ampia, tanto più che in questo modo se ha funzionato la minima versione, chiamiamolo il mini corso, quindi la mini versione accettabile di questa offerta più ampia, tu avrai già dei clienti prontissimi, già dei clienti soddisfatti, prontissimi a fidarsi ulteriormente perché hanno rischiato un pochino con te, hanno visto che effettivamente non eri aria fritta. Altrimenti se il minimo prodotto accettabile non dovesse funzionare, non ti scoraggiare, chiedi feedback, usa questo feedback per reiterare quello che avevi in mente facendo in modo che sia perfettamente allineato alle esigenze del tuo cliente ideale, quindi qualunque cosa tu voglia lanciare sul mercato, un programma di coaching, un evento live, un'app, che sia un prodotto fisico, concentrati prima di tutto sulla sua minima versione accettabile o fattibile, ok? Questo è molto più facile per i corsi digitali, i prodotti digitali naturalmente, ma è fattibile anche per quelli fisici. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero che ti sia stata utile e spero naturalmente di saperlo tramite un commento sotto al video di YouTube o sotto al video del blog da dove stai guardando il podcast oppure attraverso una recensione che spero ci lascerai su Spreaker, Spotify, iTunes o qualunque sia la tua piattaforma podcast preferita. Noi come sempre ci vediamo o sentiamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.